Continuano ad esserci misteri intorno a Temptation Island e alla coppia Lino e Alessia, che hanno avuto un durissimo falò di confronto Adesso è emersa una possibilità inaspettata al di fuori del reality show di Canale 5, che potrebbe cambiare le carte in tavola Il pubblico è spaesato, dato che stanno venendo fuori informazioni di tenore completamente differente L'ultima segnalazione sulla coppia di Temptation Island è abbastanza incredibile Lino e Alessia sarebbero giunti ad una decisione in attesa, che modificherebbe tutto il loro rapporto Ad aver avuto questa informazione è stata l'esperta di gossip e tv Deyanira Marzano, che ha immediatamente pubblicato tutto nelle sue Instagram Stories Temptation Island, nuova segnalazione clamorosa su Lino e Alessia Questo modificherebbe ogni cosa, infatti fuori da Temptation Island si era saputo che Lino si sentisse con un'altra ragazza, quindi Alessia ormai sarebbe un'ex fidanzata Nelle scorse ore è sopraggiunta un'altra informazione, che ha lasciato migliaia e migliaia di persone senza parole Un utente ha scritto a Deyanira Marzano, il rider di Glovo che conosco e che conosce bene Lino mi ha detto che Lino e Alessia stanno insieme Non so quanto certa sia la cosa E l'influencer ha risposto, per ora è ancora tutto in ballo La coppia sarebbe probabilmente in dissidio, dunque una decisione finale non l'avrebbero ancora presa Non resta che attendere la prossima settimana per capire se ci saranno ulteriori aggiornamenti su Lino e Alessia, che hanno sconvolto tutto il reality show dell'estate Ciao